Sicuramente dopo l'anno scorso, all'inizio, quando abbiamo fatto molto bene, quando siamo stati anche i primi nella classifica e poi fino al mercato di gennaio, sicuramente anche noi giocatori viviamo questo momento particolare per noi perché si poteva fare qualcosa in più. Dopo gennaio anche noi siamo stati un po' non disputi, però un po' si sentiva questo dispoiatoio, si parlava molto di mercato e questo disturbava anche a noi dentro di uno dispoiatoio. Per questo magari è uno dei, diciamo, di alibi che possiamo dire che ha disturbato un po' la squadra, però quest'anno io personalmente e anche altri si parla poco di mercato perché lasciamo questo a quelli che sono responsabili di fare e noi siamo concentrati sul nostro lavoro e solo così possiamo fare molti risultati. Grazie.